Alda, 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 nient'altro che Alda, o da quello che sono diventata da grande, la signora Alda Merini, donna Alda Merini, signora, donna e mamma, la mamma di quattro splendide bambine. I miei avventori non capivano e così ho deciso di diventare un uccello, un uccello di giovinezza che hanno attirato a terra con esche malfatte, con esche a cui ho sempre creduto, a cui ho sempre abboccato, anche perché le esche migliori sono comunque bocconi pregiati e perché la terra è piacevole se vista dall'altro.